Questo format è molto positivo, una cosa innovativa, è stata molto costruttiva, stiamo passando una giornata stupenda. Io sono affiliata da circa sei anni, a maggio faccio sei anni, col gruppo Frigerio mi trovo molto molto bene, sempre positivi, riscontro sempre delle risposte positive. L'anno scorso abbiamo fatto un lavoro con il network, siamo andati nell'associazione, nelle aziende, abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo avuto un buon riscontro e stiamo andando avanti su questo piano. L'obiettivo è quello di fare anche biglietteria e delle aziende? Assolutamente, abbiamo organizzato un evento quest'anno abbastanza importante, biglietteria business travel e contatti con le associazioni. Grazie. 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 Grazie.